amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di un clamoroso addio quello di flavio insinna e la notizia è davvero incredibile la notizia è un'ultima ora tra qualche secondo ne saprete di più ma prima di iniziare come al solito vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo attenzione avviso importante non dimenticate di attivare la campanella in tal caso le notifiche arriveranno direttamente sul vostro cellulare flavio insinna 56 anni è senza dubbio uno dei conduttori più amati di tutta la televisione italiana è innegabile che l'eredità è una garanzia di intrattenimento e dal punto di vista della rai una garanzia anche per gli indici di ascolto quindi flavio insinna riscuote consensi e nonostante ciò cari amici di youtube voci di corridoio sostengono che flavio insinna potrebbe lasciare l'eredità e potrebbe farlo nel momento migliore attenzione perché in esclusiva e soltanto sul primo gale di marco liguori in questo video vi svelerò il sostituto di flavio insinna chi potrebbe rimpiazzare il conduttore romano alla conduzione dell'eredità flavio insinna quindi a breve potrebbe dire addio alla conduzione dell'eredità questo è ciò che sostiene il settimanale oggi e in esclusiva annunciamo il nome della nuova conduttrice per la prima volta a condurre l'eredità ci sarà una donna si tratta di caterina balivo che da poco ha lasciato la conduzione del programma vieni da me quindi addio flavio insinna e caterina balivo nuova conduttrice dell'eredità questo quanto meno è quello che sostiene il settimanale oggi cari amici di youtube rispolveriamo il caro vecchio sondaggio vi chiedo semplicemente flavio insinna o caterina balivo voi chi preferite per la conduzione dell'eredità scrivete a qualora preferiate flavio insinna oppure b se pensate che caterina balivo possa portare una ventata d'aria fresca alla conduzione dell'eredità ciao a tutti